Signore e signori bentornati sul mio canale qui il vostro Torno Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Call of Duty Modern Warfare 3 pronti per proseguire la nostra campagna a fare la missione Tundra ghiacciata andiamo Eravamo diretti in Siberia o meglio siamo arrivati in Siberia forse qui rintracceremo Makarov dubito fortemente però ci proveremo Mi piace caro Dov'è? Cazzo Mi piacerebbe farlo annegare capo ma dobbiamo tirarlo fuori Ah allora è inutile andare Prendilo Andiamo Sì Abbastanza ansiogena questa scena sott'acqua Sei a Watcher niente Makarov non era nel convoglio il prigioniero è in sicurezza Identità? Aspetta Shepard Shepard? Posso crederci McTavish Che cazzo Capitano Mardà Possibile che sei coinvolto anche in questo casino Gosto lo vedi anche tu Affermativo Uccidiamo le andiamo Sei chi avete lì? È il fottuto capo Goldiegel Shepard In carne e ossa Porca troia Siamo un bersaglio facile qui Allora portiamolo via Che ci fai qui? Ci danno la caccia John E hanno trovato prima me Cosa gli hai dato per salvarti? Un cazzo di niente Stronzate Io sono un generale a quattro stelle E ti hanno lasciato vivere? Ributtiamo questa meta nel lago So il prossimo bersaglio di Makarov Tu non sapevi neanche di essere un bersaglio Ma voi stavate girando a vuoto prima che spuntassi io Dicci tutto allora Prima mi tirate fuori di qui Attenzione elicottero in arrivo da nord Dieci chilometri Roger Che si fa bravo? Le informazioni erano buone Anche se mente Può servirci Se muore non avremo niente Ghost, Pharah, all'estrazione Ok Watcher Siamo uno in più Così va meglio Ora Potrei avere una giacca E un'arma No Diamogli l'arma Può servirci Una pistola con mirino termico Resta con gas Non fare scherzi O ti pianto un proiettile in testa Diglielo Bravo Sei a Watcher In ascolto, bravo Il piano è usare il trasporto per raggiungere il punto di estrazione Credo che il vostro ospite potrebbe rallentarvi Guardatevi le spalle Chiudo Sta scendendo la nippia Momento perfetto per il mirino termico, sei? Mirino termico, bravo Mirino termico in uso Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Sto morendo di freddo Con una leggera ipotermia si sopravvive Mi servirebbe un po' di disciplina Io non lo provocarei, generale Finirebbe male Quanti siamo noi, quattro? Eccolo Accodi Quasi quasi ti faccio trovare Tra l'altro Non abbiamo silenzatori, no? Possiamo stare giù a farli passare Ma gli altri dove sono, scusate? Sono in allarme Non ci vedo No ma porca troia Fatemi capire dove cazzo siete Ma ditemelo che siete di qua Cazzo ma Price era là fino a un secondo fa Ma è pazzesco Che mi aggiornano sulla loro posizione Eh, è libero Vaffanculo va Dimmi lo che hai cambiato sponda Price Beh Ma porca troia Ha colpito Ah, Price è vero che siamo noi Tra l'altro Tato No, ce l'avevo con soap io Più che altro Che gran casino Spero che quelle informazioni siano buone, generale Oh, c'è altra gente qua Prima Mi ha rotto i coglioni Mi ha rotto i coglioni Affermativo Una squadra d'assolto Sei a fare Ghost Il nostro trasporto è compromesso Ghost sta pensando alla zona da serraggio Ci vediamo alla segheria Tagliate a piedi per l'altura oltre il campo Ok Con la fortuna che abbiamo Troveremo altra compagnia Il trasporto ha scorta e munizioni Prendiamone Restiamo vicini agli alberi e passeremo Quindi? Devo prendere la più larga possibile Qual è il piano, Capitano? Rapidi e silenziosi Saggia decisione, figlio Silenzio Sì, tra l'altro Pelaton Cazzo che mi stava vedendo La segheria è sul fiume Fare l'elita sola Dobbiamo muoverci Ci hanno visti? Fuoco! Due secchini sono ancora Bufi Ma non ci avevano visti Ah, dobbiamo per forza eliminarli allora Andiamo a prenderli adesso Ma noi non abbiamo una Porca troia Ma scusatemi Io miro C'è SOP Giusto? C'è la SOP E che cazzo Sparano a me? C'è SOP a un metro E spari a me? Ma io non lo so Porca troia Qua c'è la roccia Dovevo nascondermi Eh, stai a fare attenzione ai movimenti Che cazzo Movimenti anche dei compagni Dove essere attenti Affermativo Una squadra d'assolto Sei a fare i ghost Il nostro trasporto è compromesso Vediamoci alla segheria Tagliate a piedi per l'altura oltre il campo Check Bell'idea Il trasporto a scorte e munizioni Prendiamone Merda Siamo compromessi Fate fuoco Bravo Ci sono diversi cecchini Nell'area operativa Dividiamoci Generale Tu con me Tieni la testa giù E la bocca cucita Porca troia Si sono Bastardi Eh, dietro il ceppo Quanti ce ne saranno di ceppi Porca Puttana Porca troia Ah no Un nemico rimasto Un nemico rimasto Prista Samtex Andiamo, corri Sentito Venivano dalla segheria Fara è laggiù Rispondi, Kilo Fattuglie di coni intorno alla segheria Uniamoci alla festa, capitano Vamos Si può salire, no? Fara, com'è la situazione? Mi sparano dal lato opposto della segheria Mi serve supporto Ricevuto, resta in posizione Kilo Ci sposteremo sul fianco Capito Arrivano altri coni, bravo Ricevuto In avvicinamento Li colpiremo alle spalle Ci sono coni ovunque Perda Mettiti al riparo con Shepard Sob, con me Si Oh Cazzo, ma copritemi Stanno sparando dal magazzino Sergente Fara qualunque cosa si muova Munizioni scarse Munizioni sui Oh No me Dammi ste munizioni Sob Porca putt Caputana Ma questo non lo vedevo, davvero Sob Ma spara Figa Ce l'hai a un metro Cazzo Poi pensavo di averlo ucciso Io tra l'altro Raffanculo Ma che arma del cazzo Ve la possiamo dire Non c'è Ma c'avete una mira C'avete C'è Col pompa Munizioni scarse Qui ho delle munizioni Quell'esercito Che il Makaroff Ha messo su Capitano Ci sono due cecchini Al primo piano del magazzino Arca Tra l'ho preso fuoco Aspetta Pezzo di stronzo Mannaggia la puttena Se ne va Andiamo al primo piano Cazzo non l'ho neanche stunnato Ma Porca puttana Levati E su Perché a te non ti sparano sopra No Ho sbagliato tasto Ma ho cambiato arma Vaffanculo In fuori Che cazzo di cambiarma Di merda Abbiamo un veicolo in arrivo Ricevuto lo vedo Stiamo arrivando altri con Donna Ho quasi finito le munizioni Ho munizioni Non mi ha preso le munizioni Ah è Shepard quello Ma vaffanculo Shepard Ma non solo a me È incredibile questa cosa Ma che arma del cazzo Dammi questa Anche a te Ok Retro della segheria Viviamo Qualche difficoltà ma Oh cara Andiamo da lui Ma di qua Si è abituata al deserto Al caldo In Siberia Liberi di ingaggiare Qualsiasi minaccia Ok Che vengano pure I corni ti hanno dato rogne Eh Ghost Oggi non aspettavo visite Movimento più avanti Ma è un imboscato No se stiamo noi a colpire per primi Bendetto Gaz Farah e Sop A sinistra Gaz tu a destra con Shepard Ultimo caricatore In movimento Munizioni qui Inizi a nevicare Qualcuno Mi chiuda la voca Adesso Mi arraggene Stanno arrivando altri Gli infarti nemici Usate i mirini termici Merda com'è Rilancia So Oh ma Cazzo sono I cecchini con le granate Merda Oh ma Eh a vederlo Porca Trovaia Quello no Rpg eliminati Terminato La farah sei matta Hai tirato un'esca Ma davvero hai tirato un'esca Mi ha 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 tirato un'esca Complimenti bravo Anche a te Bravo 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 a farah Marco il punto vicino all'imbarcazione Grande Marco anche Nemici nell'aria Visuale confermato Quasi al punto distrazione Loco l'rpg Sei ghost Allora Siamo alla meta Dobbiamo resistere fino all'arrivo Dell'elicottero di Nick Prepararsi So già che ne arriveranno altri Ottimo Rinforzi di conni in arrivo E vatti Veicoli di collina Mi hanno scagliato Intensificare l'attacco Liberiamo l'area Per le estrazioni E niente Sono morto Ma porca troia Siamo in mezzo al niente Siamo Non abbiamo coperture Devo andare un po' più indietro Rinforzi di conni in arrivo Uuuuh Veicoli di conni in arrivo Ci hanno scagliato addosso Un'intera compagnia Vieni qua Vieni qua Vieni qua Passificare l'attacco Liberiamo l'area per l'estrazione Offre la casa Ma come? Ma porca tro... Ultimo caricatore Ultimo caricatore Unito di conni in arrivo Eliminato Colpo efficace Mi ha munizioni Dove cazzo è? Occhio ai fianchi Bravo a sinistra Porca puttana Bravo via libera Libero Nick tempo all'arrivo Trenta secondi e sono giù Zona libera Ricevuto Vieni qua Vieni qua Io ce l'abbiamo fatta Tostina eh Sta missione Mi immagino Ha difficoltà veterano Cazzo Ticolai Ci siamo tutti? Sì Portaci via Laswell Lei a porto Rietro Percevuto Buon viaggio Qui Che significa Ero qui Laswell Senza i tuoi gradi Sembra proprio Uno stronzo ghiacciato Generale Il meglio del meglio Siete tutti qui Sì Mancavi soltanto tu E a che cosa devo Questa simpatica rimpatriata Ha una scelta E ne ho una No Vi ascolto Confessa Ci devi dire Tutto Sapete già tutto Ma non il congresso E credo che Ascolterebbero O no Tutto qui No Dovrai scagionarmi Dire loro chi sono Che cosa mi hai dato E perché lo hai fatto Nessun altro Ha avuto le palle Di fare ciò che ho fatto per te Per tutti voi Allora fa la cosa giusta Tutto ciò che sai su Makarov E il tuo amico Graves Alguinsacco Accetta E torni al caldo Oh Resti un po' qui Un po' ricongelato Io preferisco la seconda Se si tiene un prigioniero Concentrato soltanto Sulla sua sopravvivenza Presto o tardi cederà Ora ricordi il tuo addestramento eh Generale Se stavolta mi fotti John Sappi che rimpiangerai Di non avermi ucciso Forza Bene generale Ci dica Makarov vuole completare ciò che ha iniziato a Verdansk Ha ordinato a Connie di colpire la diga Gora di notte Se fa soltare la diga inonderà l'intera città Morirà molta gente Se segue il suo piano Incolperà Farah e l'occidente Sempre se non lo fermiamo Pensate alla diga Alex e i miei hanno rintracciato Connie Fino all'Urdigstan settentrionale Forse è una base operativa di Makarov Guiderò un assalto laggiù al mattino I tuoi non possono andare da soli Non lo faranno Shadow darà supporto aereo Non possiamo lasciare che Graves apare il fuoco vicino a Phara ai suoi Io mi fido della Shadow Hai detto di tenere Graves al guinzaglio Ed è ciò che farò Tienilo molto stretto generale Vuole la sua vittoria Sì puoi dirlo forte Io ai gas con Phara Sopra i cost alla diga Ok Nick fornerà il trasporto Sorveglieremo con un Predator Non fatevi scoprire Non succederà Occhi aperti e concentrati Buona fortuna Watcher 1 Qui Bravo 07 Siamo alle posizioni primarie Attenzione ci sono assembramenti di coni in vari punti sotto di voi Sicurezza per i loro demolitori Possiamo usarli per trovare le bombe Affermativo Scovate le cariche e disarmatele Ci sono in ballo troppe vite Watcher chiudo Attenzione Verdas Di notte Buona caccia la sotto tenete Anche a te Johnny Allora partiamo da destra Paracadute ce l'abbiamo? No giusto per sapere Subito eh Subito fortemente Ma allora No ok Ci provo Ah ce l'abbiamo paracadute Oddio C'è qualche problemino con l'acqua no? Come fanno a vedermi che Sono qua gli esplosivi Non devo fare niente No ma io non ho silenziatori ma che cazzo di Ma che ghost sono scusatemi Ma fatemi capire A parte che vabbè che ho scelto forse Il punto più sbagliato dal quale iniziare però E che cazzo Ma la facciamo così Missione con libertà di azione Ho capito ma Andiamo a vedere Da sto lato Anche perché la macchina Se fa il giro Va di qua Ma c'è qualcosa Un dolone bomba Che può tornare utile E quindi Ok Quello non sarebbe male Andare Ciao caro Se faccio cadere si spegne No Non è realistico però questo gioco C'è un senenziatore Qualche no Qua ce n'è uno Qua ce ne sono due Andiamo a scendere da qua Senza far casino Ghost Ok Vediamo se ci sente questo Sembrerebbe di no Sì devi stare cazzo calma Va bene C'è precisione Ma non ha Silenzatore Merda Arriva la macchina Fanculo Ed è il cadavere adesso 100-100 Ho questo Ho questo Devo proprio far assaltare in aria Questa Fallo Bomba fuori uso JLTV sicuro Ok Bravo 7-1 a Watcher 1 Qui Watcher Abbiamo un problema qua su Contenitori di gas in acqua Ancora intatti Makarov vuole avvelenare la città Non si accontenta di inondare la città Vuole avvelenarla Non ci saranno su questi Al momento voi due siete gli unici in grado di fermarlo Minaccia rimossa Quello che faremo Cara Oh chi mi vede lui C'è nessuno con un'arma silenziata Gentilissimi Si ho capito ma Eh Fate un attimo cazzo calmi Che vorrei fare La missione il più E' andato quello che c'era qua Ah c'è un cecchino Da sopra Il Più stealth possibile Allora Ok Passi protezioni Eccessivo Ma possiamo Oh ma Ma non c'è il tempo Devi stare cazzo calma Eh Porca troia Facciamocela con calma E circo Spezione Spezione Che cosa ha visto sto stronzo Allora Allora C'era un altro Ci sono le scale per salire Ah no Cazzo era Era un caschetto Ma pazzesco No zia non hai capito Prima faccio fuori I cecchini E' lì E' lì E' lì Oh no cazzo scivoli Stai calmi Ciao caro Qua è un cecchino Silenziato per caso No Niente Non hai neanche Ma porca troia Oh Questo mi piace Gas Sperimentale Folgoratore Bottiglia Che cazzo sono Tra l'altro Iniezioni UAV non male L'UAV lo usiamo Ricapiamo subito Ok Perché ne ho tipo qua uno E' ora un colpo Due Ok E' rotto il cazzo Zia Te lo dico Ma là quindi c'era qualcuno Sì Andiamo da quelli va Prima che magari si accorgono di Di Dei cadaveri Cosa che stanno per fare Probabilmente Ma 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 avrà mica visto 07 Vai alle postazioni Bomba Il tempo Non è dalla nostra Tocca no Ok Fatti questi Andiamo sul ponte Carica che abbiamo due colpi in meno Si sa mai Riusciamo a fare Riusciamo a fare la stealth Non è male Questa eh Poi con ghost Vuoi non fare la stealth Con ghost Allora qua Guardiamo la situazione Uno è qua Porca troia Ok Ok No Non hai capito Ok Come sali su Andrà qua No Oh Non ho capito eh La roba qua Stava sotto Questo Ma mi ha sparato la torretta Pazzesco Ponte Ponte è andato Sicuro Torniamo Proviamo a tornare di là 07 Stando alle comunicazioni nemiche Connie ha quattro squadre di demolizione Quattro squadre e quattro bombe Dobbiamo trovarne ancora due Riusciamo noi di qua a fare qualcosa O è impossibile Ma qua è impossibile passare su Eh che cazzo Guarda che dai Ma come faranno a sapere che sono qua Ma Ok Forse hanno perso le nostre tracce Forse Vabbè C'è fatto una nuotatina Perda Te l'ha un colpo C'è fatto una nuotatina C'è fatto una nuotatina 07 Stando che sei lì Un colpo Ce la facciamo Merda Merda Aspetta sorpresa E' finito E' svanito Bisogna Merda Ma diventa nostra questa? Probabilmente si Merda Merda Cazzo Facciamo venire avanti Oh che cazzo Schiaccio Oh cazzo Sala di controllo Sala di controllo al sicuro Pericolo scampato Tre bumbe sistemate Ancora una C'è uno qui Bravo 7-1 Sulla metà del bacino Ho raccolto diversi contenitori Ricevuto 7-1 Assicurati di prenderli tutti Questa cazzo Questa cazzo E' un attimo che ci sono clamor ovunque Questa è sul tetto di questo provvedimento No, merda Quanti cazzo Ok Ok Guarda quanta roba qua Fila, signal Mh Forse è meglio prendere Expedite No, forse è meglio Mi sembra che c'è un testo 07, controlla le passarelle a sud rispetto a te Nessuno Non c'è un testo Non c'è un testo Non c'è un testo Oh! 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 Merda! Cora! Posto! Eh, tu pezzo di merda! Che cazzo arrivi te! Vamos! Disattivata! Adesso! Dobbiamo scappare! Cazzo non ci avevano visti! In arrivo! Abbiamo della merce da caricare! Un minuto! Oh! Oh! No! Andi, fuoco di copertura! Davi! Non l'avevo mica visto eh! Arrivo! Bravo, bravo! Oh! Porca troia! Dai cazzo calmo! Arrivo! Alve! Stavo liberando l'area! Speriamo! Abbiamo salvato Verdansk? Ancora? Ah! Gost e Sob hanno evitato un disastro, la diga! Hanno fermato Makarov! Fate lo stesso! Con Farah e Alex ci riusciremo! Grace è nella tua squadra, non scordarlo! Lo so molto bene! Bene ragazzi! Siamo pronti al controllo preliminare! Vi ha i controlli preliminari! Sì! Siamo carichi! Agiremo uniti! ULF 141 e Shadow! Tutti insieme! Gas! Tutti uniti eh! Sì! Siamo carichi! Siamo carichi! ULF 141 e Shadow! Tutti uniti eh! Sei sicura? Se non facciamo così... Abbiamo perso! L'energia utilitaria a tutto il passo! Ora controllo i motori! Ok! Speriamo! Shadow carico! Controllo ci viene! ULF 141! Presevuto! Si vola! Shadow a Capo Gold! Siamo pronti! State chi dentro! Capo Gold Eagle, Shadow 1 in posizione! Shadow 1, squadra di terra al punto d'ingresso del cimitero! Fornirete copertura aerea mentre loro scopano le armi chimiche e maccaro! Certo Capo! Sado 1, squadra di terra in attesa al cimitero a Ovent! Siamo marcati con luci strobo! Confermiamo! 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 Signori ci fermiamo però qui per oggi! Come sempre io vi ringrazio per la visione e vi invito ad lasciare un commento a dirmi la vostra anche sull'andamento di questa campagna con MV3! È stato come sempre un piacere! Ci vediamo con il prossimo video! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!